Certo, certo, questo lo sappiamo benissimo, abbiamo già constatato nel girone mente dietro, ma cerchiamo di affrontare partita dopo partita guardando sempre avanti. Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti. Mi raccomando di non svegliare i segreti. Assolutamente, però facciamo vedere quelli che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra valdichiana, che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti, mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno. Siamo alla vigilia di una partita di Coppa, come vi siete preparati? Finalmente si riparte, preparati bene, molto bene, perché a parte una settimana dove si è fatto il lavoro a casa, dove si era nel pieno dell'ondata, poi ci siamo allenati bene, sempre con continuità, abbiamo ripreso una parte atletica importante e quindi siamo pronti, contenti di ripartire e niente. Sereni? Sicuramente dopo tanti giorni di inattività, dal punto di vista di gare ufficiali, ci fa piacere perché ci siamo allenati, ci siamo allenati bene, sempre e quindi è anche giusto ripartire perché comunque c'eravamo prevista degli obiettivi all'inizio stagione, quindi vogliamo portare a termine. Quindi noi siamo pronti e spero che facciamo bene domenica, che è la prima partita ufficiale di Coppa e teniamo a far bene e cercare di andare avanti. E magari dare il massimo, perché voi siete la squadra da battere e tutti vi aspettano con una grinta maggiore. Certo, certo, questo lo sappiamo benissimo, abbiamo già constatato nel girone d'andata e sì, ci aspettano tutti, con noi una partita di vetrina, perché comunque c'è una grande società, un grande stadio, un grande gruppo e un grande staff e quindi niente, ci aspettano tutti e sappiamo benissimo che con noi è una partita sempre diversa. Sicuramente, come ha detto Leonardo, sì, siamo una squadra forte ma anche le nostre dirette inseguitrici comunque stanno facendo bene, ma noi siamo consapevoli delle nostre forze, non guardiamo sicuramente dietro ma cerchiamo di affrontare partita dopo partita guardando sempre avanti, quindi cercare di mantenere sempre questo vantaggio, se non magari anche incrementarlo per arrivare poi a fine stagione e centrare gli obiettivi prefissati perché penso che questa società meriti, questo gruppo merita, questo staff merita e quindi dobbiamo essere concentrati e umili sempre perché comunque l'umiltà è fondamentale, consapevoli di essere una squadra forte ma umili perché comunque andiamo a affrontare tutte le squadre che ci vogliono battere, quindi sarà ancora più complicato visto che anche comunque il girone di ritorno è sempre un girone diciamo più difficile rispetto al giro d'andata. Poi voi siete due elementi fondamentali di questo gruppo, Bianchi la mente e Sereni che ultimamente sta mettendo a segno dei gol d'autore. Sì, ultimamente ci ha risolto un po' di problemini perché insomma come diceva ora lui non sono mai facili le partite, quindi a volte l'esperienza o a volte comunque sia un colpo, ora noi qui ci siamo noi due ma c'è tantissimi altri ragazzi, giocatori che in tutti i momenti ci possono risolvere le partite e è fondamentale questa cosa, molto fondamentale perché sono partite dove le squadre avversarie danno tutto, non si riescono a sbloccare nonostante magari abbiamo qualcosa in più e quindi sì è fondamentale testa e colpi che in questa squadra ci sono. È inventiva Sereni? No, no, io penso che qui il merito è di tutto il gruppo, non c'è singolo perché il singolo non fa la differenza, quindi fondamentale è la squadra, fondamentale sono tutti i compagni dal primo all'ultimo, chi entra, chi gioca, chi non gioca, fondamentale è allenarsi bene per arrivare poi alla domenica e essere tutti i competitivi, quindi sì io sono stato magari anche bravo quando mi è capitata l'occasione ma sicuramente il merito non è solo mio ma è dei miei compagni che mi hanno messo diciamo nell'occasione giusta, nel modo migliore per cercare insomma di segnare anche ma quello non è una roba che mi competi, ci sono tanti altri ragazzi bravi che l'hanno già dimostrato quindi noi pensiamo a far bene ognuno magari il proprio, dare il massimo come squadra, come collettivo per poi insomma toglierci questa soddisfazione a fine stagione. Grazie e buon lavoro ragazzi. Niente, grazie a te.